Order! Order! Il Parlamento britannico ha adottato ieri una mozione in favore del riconoscimento di uno Stato palestinese accanto ad Israele. Un voto non vincolante, dunque del valore prettamente simbolico, con il quale la Camera dei Comuni intende dare un contributo al raggiungimento di una soluzione negoziata dei due Stati. Senza ambiguità la posizione del Parlamento di Londra, che si è espresso con 274 voti in favore del testo e soltanto 12 contrari. La mossa di Londra si inserisce nel contesto di una più vasta pressione internazionale, volta a riportare lo Stato ebraico e le autorità palestinesi al tavolo dei negoziati. Ieri il segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon, in visita in Medio Oriente, aveva ribadito la ferma condanna nei confronti della politica di colonia condotta dal governo di Benjamin Netanyahu, mentre la ferita della guerra di Gaza è ancora aperta.